La doppia lezione di oggi e nel modulo Governanza Metropolitana volevamo affrontare il tema dell'urbanistica o meglio della tutela del suolo e in particolare della rigenerazione urbana con Walter Vitali che ringrazio di aver accettato questo invito anche per tutto il lavoro che il Laboratorio Urbano fa sul tema dello stop al consumo del suolo e in particolare della rigenerazione urbana. Come sapete la nostra scuola è itinerante e ci sembrava giusto legare questo tema a un luogo che se vogliamo è simbolico di una forma di rigenerazione urbana tra l'altro attraverso un progetto europeo, quindi un modulo che affronteremo nelle prossime lezioni che è quello dell'utilizzo dei fondi comunitari. Quindi approfitterei subito della presenza del sindaco di Giulio Perini, ringrazio di averci ospitato e di essere qui per un breve saluto e poi l'intervento di Walter Vitali a seguire delle domande e alle 8 e mezza facciamo un cambio con l'azione successiva che coinvolge ovviamente lì in fondo che saluto che invece ci parlerà della progettazione universale, quindi di come si può realizzare anche un'urbanistica a misura dei più svantaggiati e in particolare dei disabili. Quindi partirei subito lasciando la parola Giulio Perini. Grazie a tutti, grazie Marco, saluto un grande piacere Walter Vitali che nel periodo in cui è coperto l'incarico di parlamentare, spesso ho venuto qui a Udrio quando ero segretario del PD e quindi non ero ancora sindaco, è un grande piacere rivederlo qui da queste parti, non avete ancora visto l'attore dell'acqua quindi è una bella sorpresa anche per te. Io sono un po' invidioso di questo percorso che state facendo perché la nostra generazione quando eravamo, si chiamava sinistra giovanile, ha avuto altri tipi di scuole, magari con la fortuna diciamo per esempio di attraversare il movimento no global e non global, poi era stata una scuola, è stata una palestra, non ci si è fatta con le osse e i muscoli, però insomma sono invidioso di questo percorso perché per come è nato, cioè dalla volontà di Raffaele Tolini negli anni scorsi di puntare molto sulla formazione e sul fare squadra nel fare formazione e una cosa che sta facendo molto bene Marco in questa fase, che sta mettendo molto bene in campo, con la qualità e la varietà dei temi che riuscite ad affrontare in questo percorso che seguo da lontano perché mi arrivano tutte le vostre informazioni, so che avete, siete riusci da un incontro sulla città metropolitana, noi come sindaci siamo riusci ma ci stiamo preparando ad altre battaglie sempre sulla città metropolitana, che insomma è il banco di prova determinante per questo nostro territorio, per i sindaci uscenti, entranti e rimanenti dei prossimi mesi, quindi insomma davvero voglio sottolineare il mio apprezzamento per questo percorso, per questa iniziativa, che insomma valorizzate lo più possibile, perché è davvero una bella esperienza che forse da altri territori ci invita, ma quindi da sfruttare al massimo per un percorso di crescita, di rafforzamento, non tanto e non solo individualmente, ma proprio come squadra, come gruppo di persone che come comunità in qualche modo deve portare avanti dei temi importanti e un impegno politico, un impegno politico che poi diventa quotidiano inevitabilmente perché la passione politica ti porta a fare questo, nel corso della vita e di fatto non ti abbandona mai. Vi do il benvenuto qui, Torri dell'Acqua, l'abbiamo aperto alla fine del 2009, un luogo che quando è nato sembrava arrivato da un altro pianeta perché qui c'era soltanto questa struttura, questo edificio che vedete, di là la torre quella più alta e tutto il resto non c'era, non c'era la torre di vetro, non c'era la stecca con la vetrata e con l'acciaio corteno, quello che apparentemente sembra un ucine con il bar dentro, non c'era tutto lo spazio espositivo al di sotto che praticamente è lungo, diciamo corre al piano di sotto, lungo tutta la stecca che vedete al piano terra e quindi è stato un edificio che è stato vissuto inizialmente anche come qualcosa di estraneo, devo dire, all'interno della nostra comunità e però subito appena sono partite le attività e appena si è visto che in realtà questo edificio pensava e ragionava proprio anche ricostruendo un qualcosa che esisteva a Budrio, basta guardare di qua, mi andrei a costa, tutto il muro dalla parte diciamo nord di questo edificio richiama esattamente le vecchie mura del paese che furono abbattute all'inizio del Novecento esattamente come avvenne nella città di Bologna, appena si è capito che in realtà questo luogo era assolutamente un luogo budriese a tutti gli effetti e soprattutto un luogo budriese che guardava al futuro è stato accolto positivamente sia per quella che è l'attività culturale e sociale che qui avviene, sia per l'attività di aggregazione, soprattutto grazie a dei bravi baristi che in questi anni hanno gestito e stanno gestendo il bar e che riescono appunto a coinvolgere anche giovani generazioni, un pezzo di giovani generazioni qui nel nostro paese, non solo ma soprattutto nel nostro paese, quindi questo è davvero un luogo unico nel suo genere quando arrivano cittadini di Bologna o di altre città sostanzialmente ci dicono questa roba qua non ce l'abbiamo a Bologna, non ce l'abbiamo nel nord Italia e arrivano anche architetti che dicono questo tipo di recupero fatto in questo modo, con questi materiali, con questa idea, con questo coraggio anche se volete, non c'è, non si vede, non si vede probabilmente in tutto il nord Italia, quindi siamo molto orgogliosi di questo. è un esempio di rigenerazione, qui si parcheggiava, c'erano erbacce, questo posto era sostanzialmente sempre chiuso tranne che in alcuni periodi in cui ci facevano concerti o dipingevano i muri per fare delle prove o degli esempi di writing, di graffiti, per cui era davvero un luogo quasi abbandonato, rigenerazione reale, vera, perché qui siamo nel pieno centro del paese, questo incrocio qui a fianco è l'incrocio più trafficato sostanzialmente, questo semacolo è l'incrocio più trafficato sia da pedoni che da ciclisti che da automobilisti del nostro capoluogo e quindi davvero abbiamo rigenerato un luogo che era stato lasciato un po' così, abbandonato negli anni e diversamente da perciò che hanno fatto molti comuni, le torri dell'acqua cioè i primi strumenti di acquedotti che sono stati realizzati per l'igiene, per l'acqua pubblica e per l'igiene nei centri storici, nei vecchi centri storici, normalmente nei comuni qui intorno questi acquedotti vengono abbattuti. Noi invece abbiamo fatto una scelta, i budri o i budriesi, l'amministrazione comunale di allora ha fatto una scelta diversa che è quella appunto di recuperarlo e dare una nuova attività a questo luogo, completamente diverso da quello che c'era prima evidentemente e anche con una scelta appunto forte e coraggiosa, oggi qui avvengono molti appuntamenti musicati anche di musica contemporanea, di musica un po' strana, un po' particolare che alla primo ascolto non solo non la si capisce ma è qualcosa che è veramente molto lontano di ciò a cui siamo abituati dalla radio o dall'insegnamento scolastico della musica e però sta avendo successo anche se naturalmente non muoviamo le masse, la sala è questa, però sta avendo un grande successo e stiamo intercettando tanti artisti che oggi qui decidono di venire a suonare anche gratis perché l'acustica è perfetta, perché si può registrare anche se appunto ci sono intorno delle attività, c'è la strada, si registra perfettamente in questa sala e quindi molti artisti in giro per l'Italia si stanno anche passando voce e questa è una fortuna perché poi quando arrivano e ci chiedono meno per suonare evidentemente riusciamo anche a fare degli spettacoli che una città piccola come Budio di per sé non potrebbe permettersi, quindi davvero abbiamo in questo luogo un pezzo di cuore pulsante alla nostra comunità e quindi ve lo volevo presentare, ho perso qualche minuto per dirvelo ma lo volevo davvero sottolineare perché ne siamo molto orgogliosi. Grazie ancora Marco, grazie Walter e buon lavoro, un po' rimango e quello che non può scappare. Grazie. Come vedete, diciamo il titolo è leggermente diverso dal tema della rigenerazione pubblica che aveva fatto prima l'ha illustrato, è un tema che non ricomprende, cioè qui stiamo parlando di agenda urbana, dovete sapere che l'Unione Europea si darà, ma agenda urbana comprendendo una serie di obiettivi per le città che nel 2014 a livello mondiale un habitat che è il programma delle Nazioni Unite sugli insediamenti urbani, sta parlando anch'esso di una nuova agenda urbana e quindi sono un po' di tutto il mondo, il tema delle città è un tema assolutamente all'obiettivo. Qui ci sono alcuni aspetti di carattere estremamente demografico che però sono fondamentali. Voi tenete conto che nel 2007 abbiamo superato il 50% della popolazione urbanizzata rispetto alla popolazione non urbanizzata, è un fatto educale, storico, non c'è mai stato, è un'umanità ed è previsto che nel 2050 il 70% dei circa 9 miliardi di persone che abiteranno il pianeta vivranno in città e quindi si parla di un'urbanizzazione che è, dicendo quello che vedremo dopo, ci sono dopo 200 mila persone al giorno, un'urbanizzazione che si svolge prevalentemente ovviamente nei paesi di sviluppo, nei paesi come la Cina, l'India, anche l'America Latina, ovviamente in Africa le cose sono molto diverse, nei paesi siamo ancora lontani, distanti, ma anche lì si stanno avvertendo questi fenomeni, naturalmente le zone del pianeta invece più a tradizione, diciamo che in parte gli Stati Uniti, Nord America e l'Europa hanno una crescita minore delle città, però ciò non è stato le città sono ritenute ovunque molto importanti. Purtroppo in Italia non c'è ancora una piena consapevolezza di questo, noi vorremmo contribuire, dico noi, laboratorio urbano, a mettere in moto anche in Italia un'agenda urbana e questa è l'introduzione al libro che uscirà a maggio un'agenda per le città, nuova visione di un gruppo urbano che appunto contiene i contributi di laboratorio urbano nei vari campi, dal trasporto, urbanistica, alla città digitale, a siti, alla cultura e quant'altro. Io cercherò di essere rapido, ma visto che siete, diciamo, un'esperienza importante in una scuola di politica, di giovane, io vi lascio la slide perché ci sono anche una serie di riferimenti bibliografici che chi tra di voi è, diciamo così, curioso, interessato può andare a vedere. Qui io faccio un ragionamento sulla crisi in città e quindi parlo della crisi. E questo è un libro importante, con questi due ricercatori studiosi americani, Leonard e Roloff, che col titolo, questa volta diverso, è stato pubblicato in Italia nel 2010, il sottotitolo Otto secoli di follia finanziaria, la dice lunga, circa la tesi, e appunto la tesi è quella in eretto. Le crisi finanziarie non sono una verità, negli ultimi segni si sono succeduti l'una all'altra con una certa frequenza, i loro meccanismi tendono a riprodursi, e quella iniziata nel 2007-2008, nella quale siamo ancora, almeno con l'Italia, pienamente immersa, non fa eccezione, ma la sindrome del questa volta diverso si è costantemente riproposta, nel rifiuto ricorrente di ammettere la precarietà dei sistemi economici di voti in monta, dominanti. Alcuni dati sulla crisi che non vi vedo, perché sono troppo abbastanza noti, vabbè, facciamo prendere il primo. Prima del 2007 il 40% dei profitti negli Stati Uniti non proveniva dalla produzione di beni e servizi, ma da tipità finanziaria. Il valore giornaliero degli scambi finanziari globali superava di 60 volte l'euro annuale del convention mondiale. Sono dato infatti da un libro di Giuliana Marti, che io commento, poteva continuare così? No, certamente non lo avevo. Qui in Europa la crisi ha colpito di più l'economia reale, anche a causa delle politiche di austerità, e questo è uno dei temi che cerco di sviluppare, cioè il fatto che per uscire, per andare oltre, per sopperare, per raggiungere le autorità, puntare sulla città è importante. I dati sono i prodotti interno loro, che sappiamo che non sono i soli che misurano il benessere dei cittadini, perché giustamente le ricerche sul benessere equisostenibile, cioè su misure del benessere delle persone che vadano oltre il prodotto interno loro si sta sviluppando, però il prodotto, e cioè la ricchezza che viene, diciamo così, attubulata, è sempre un dato importante. E purtroppo noi siamo molto di sotto del prodotto interno loro precedente in 2008. Il tasto di disoccupazione, proprio ieri abbiamo avuto questi dati definiti, giustamente, da Renzi, sconvolgenti, per quanto riguarda la situazione in Italia tra i giovani, e purtroppo le provisioni per l'economia mondiale nel numero 14, pur mostrando segni di ripresa, non sono tanti da, diciamo, rassicurare. E nella comunità economica internazionale si parla, ormai sempre più spesso, con preoccupazione di jobless growth, cioè crescita senza occupazione, quindi il problema del lavoro come problema, diciamo, centrale. È chiaro che le città sono colpite dalla crisi, ma non tutte allo stesso mondo. L'Europa, prima del dato di Danza, diciamo, a livello globale, è un componente dell'unità più urbanizzata del mondo. Qui parliamo di circa il 70% di 500 milioni dell'Unione, e qui però la crisi non poteva colpire le città, ma non la colpisce, non le colpisce tutto allo stesso modo. Qui io riporto, diciamo, le statistiche dell'Italia, infatti nel livello europeo, da cui risulta, appunto, che i temi fondamentali sentiti dai cittadini sono salute, disoccupazione, donazione e formazione, e come vedete noi arriviamo in testa alla soddisfazione per questi temi città che appartengono allo stesso gruppo di paesi, che è quello lì, no? E invece, in fondo, città che appartengono all'altro gruppo dei paesi, di cui facciamo qualche anno, non c'è l'Europa mediterranea, quindi qui l'Europa come una città si vede, ed è esattamente questo. Ecco qui cito questo transito 2013, che è un importante panometro sulla, diciamo così, stato dell'Unione pubblica, cioè cosa penso di cittadini a livello, appunto, dell'Europa e del paese del Nord America. E questo è molto significativo e preoccupato, perché il 80% degli europei, il 60% degli americani, pensano che le diseguaglianze economiche sono aumentate in questi anni di crisi. Il 60% degli europei dice che l'euro abbia penalizzato il proprio paese, anche se è uscita dall'euro e sostenuta da una minoranza. Qui ci sono i paesi in cui c'è un'eccezione, il 68% è contrario al controllo dei bilanci nazionali da parte dell'autorità di Bruxelles, il famoso fiscal compact che viene citato spesso anche dagli altri grini. Di fronte a dati di questo genere che sono precedenti alle ultime risultate elettorali, ad esempio francesi, non c'è da stupirsi se il voto, ad esempio in Francia, è andato così. Sappiamo che più si insiste su questo modello tecnocratico, su cui si è affermato in Europa, più cresce lo scondimento della cittadinanza. Ecco allora il sindaco, questa volta è diverso, che sta coinvolgendo ineserabilmente la Germania che possiede la più forte economia europea, punta sulle esportazioni deprimendo la sua domanda interna. Io vi faccio un riferimento che magari non è molto di buon auspiccio, ma la storia serve anche a questo. Anche negli anni trenta del secolo scorso l'economia tedesca era in prima deflazione che, come dicono tutti, intitolano anche oggi i giornali su questo, gli ultimi dati sull'inflazione sono di forte diminuzione dell'inflazione. Allora diciamo ma come? I prezzi non aumentano e siete preoccupati? Certo che siamo preoccupati, perché in una situazione di depressione economica, se i prezzi scendono, si crea un'aspettativa di comprare sempre a meno e quindi questa aspettativa determina un blocco della vendita dei prodotti e conseguentemente anche della promozione. La deflazione è un fenomeno molto grave, tanto è vero che negli anni trenta, quando le economie tedesche in prima deflazione furono proprio le politiche restrittive, cioè gli ostenti del governo Bruni a creare le condizioni per la vittoria elettorale di Hitler nel 1933. Ovviamente non è che ci dobbiamo pensare che le cose vanno nel stesso modo, perché per fortuna l'Europa lo spazio, diciamo, non è di pace, di democrazia, di stanza consolidata, ma per dire che poiché nulla può essere considerata, diciamo così, consolidata, una volta per nulla e per tutte, i pericoli ci sono e sono questi. Eppur si muove perché, diciamo, qui io cito uno studio del capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Oliver Franchard, in quale all'inizio del 2013, come capita a questi livelli, ha pubblicato uno studio tecnico, diciamo dal titolo molto netto, nel quale si dimostra che i piani di aggiustamento fiscale della zona euro hanno avuto un impatto negativo sulla crescita nettamente superiore a quanto originariamente stava, poiché il Fondo Monetario Internazionale, diciamo, è un po' il santuario, no? uno scherato, il santuario per le politiche di austerità, questo studio in realtà, che cosa è stato? Una clamorosa autocritica sul caso greco e sull'autorità, sull'autorità esasperata. Tant'è vero che poi il Dipartimento del Tesoro ha criticato la Germania per l'eccessivo surplus delle partite correnti e lo stesso Fondo Monetario Internazionale ora sostiene cose diverse, cioè che bisogna andarci d'auto e che per paesi che sono in difficoltà economica politiche di austerità eccessiva possono essere negative. E a livello internazionale, anche nelle organizzazioni mondiali, si sta facendo strada, ecco perché ho titolato, pur si muove queste slide, l'idea appunto che bisogna uscire dalla politica di austerità. Ad esempio l'Untat, la Costituzione delle Nazioni Unite, sostiene che non è più possibile proporre le ricette del sviluppo basato specialmente sulle esportazioni, di cui ho citato i paesi che possono andare su nuove politiche economiche e ancora uno sviluppo più equilibrato a beneficio dell'Untat interna, per il quale è tutto che se tutti i paesi, a partire da quelli più forti, punti come la Germania sta facendo adesso, puntano sulle esportazioni, è chiaro che questo crea una competizione esasperata sul mercato mondiale che va tutto a detrimento di paesi meno forti, punti più deboli e soprattutto impedisce la possibilità di condurre simultane politiche di sviluppo e di crescita. Ecco perché, al contrario, le politiche invece fondate su una domanda interna, ad esempio gli 80 euro di Renzi, per essere così molto brutali, sono esattamente un esempio di politica fondata sul sostegno della domanda interna, perché possono essere condotte simultaneamente in più paesi senza il porverire vicino e possono stimolare e accresce il commercio tra di loro, anche un discorso che riguarda soprattutto le economie dei paesi e l'immigrante, diciamo, di sviluppo. Ecco, le città come l'immigra crisi globale, che è, diciamo, il titolo di produzione, non l'ho inventato lì, perché è esattamente il programma, che ho citato prima, dell'Avita delle Nazioni Unite che sostiene questo, cioè qui abbiamo un problema, vi ho detto prima, per quanto riguarda i dati demografici e qui, lo vedete, no? 70% di circa 9 miliardi di abitanti che nel 2050 sono nelle città, 2,8 miliardi di più rispetto al 2010, 200 milioni di persone a giorno in più nelle città e qui ci sono i dati di che cosa potrebbe succedere, quindi qui il tema della rigenerazione umana, lo prendiamo, diciamo, dall'alto più giusto che quello globale, qui vediamo cosa potrebbe succedere se questa urbanizzazione venisse, diciamo, con un modello attuale, che dimostra di essere completamente insostenibile, ma per la sopravvivenza del pianeta. E non stiamo parlando di secoli, stiamo parlando di 30 anni, 40 anni, 36 anni per la decisione. Qui ci sono dati molto impressionanti, appunto, l'Accademia Reale delle Scienze Svedese nel 2012 sostiene che se le tendenze attuali, le globalizzazioni attuali procedono, in pochi anni l'impronta urbana, cioè la presenza delle attività umane sul territorio, si espanderà di altri, uno riguardo i migliori di chilometri quadri, la superficie pari a quella di Germania, Francia, Spagna, messe a sé. Più di due terzi delle emissioni di adidite carbonica del pianeta, già ora, riguardano le esigenze di centri urbani, come il fuoco e il sito, perché lì avvengono, diciamo, le attività, anche gli insediamenti che richiedono maggior consumo di energie, e ci sono i numeri. Il modo in cui le città sono cresciute nel mondo occidentale non è più né ambientalmente né socialmente sostenibile, e non può essere il modello di democratizzazione dei paesi emergenti in via di sviluppo. Io qui cito Gunther Eppiger, che è l'attuale commissario di Fianca di Regia, che ha una recente fonda di Bruxelles sulle città, quello che ho detto prima, dove è stata annunciata la gente urbana europea, ad esempio una cosa importante. La Cina guarda con interesse ai human cities e al modello europeo delle città vite. Perché in cosa sta succedendo? Lo vedete anche dai crocani. In Cina queste mega cities che si stanno realizzando producono, diciamo, danni tali per cui anche dal punto di vista dello smog la gente non riesce più a non vedersi, no? Cioè, problemi enormi ambientali, ovviamente danni alla salute, eccetera. E allora in Cina si stanno ponendo in probabilità di un diverso modello di urbanizzazione, dove magari anziché esserci solo questa mega cities, ci sia questa idea europea, no? Di città vite. E un'altra cosa molto importante, la letra, sempre lo puoi seguire la situazione urbana, Juan Closte, peraltro io conosco personalmente, è stato sitaco di Barcellona, è stato anche qui a Bologna tanti anni fa per mangiare la campagna elettorale in 2004. Ma a parte questo, adesso lui è il direttore esecutivo di Unenanta, che tra l'altro farà un'importante warform a Medellin, in Colombia, quindi per dire, insomma, pur lì essendoci il cartello della droga, però in questa città ci sono, diciamo, amministratori che vorrebbero uscire da quella situazione per sostenere i fatti di questo warform. E lui ha detto una cosa importantissima. Al momento attuale, l'urbanizzazione di cui vi ho dato prima dei numeri, avviene con una densità standard di 4.000 abitanti a chilometro quadrato. Perché non è sostenibile? Perché è troppo poco. È troppo poco. Perché con 4.000 abitanti a chilometro quadrato succede quello che vi ho fatto vedere prima, che c'è il quadrato quadrato che si è stato in quel modo lì. Per cui, dice One Cross, attenzione, perché bisogna invertire rapidamente questa tendenza. E per inventire questa tendenza cosa bisogna fare? Bisogna cambiare il modello di sviluppo. Il punto è questo, il modello di sviluppo dell'umanità deve essere cambiato. Non ci si può basare sull'economia della finanza che ha prodotto la crisi in cui ancora oggi siamo. Non ci si può basare sulle politiche di austerità che non sono in grado di far giugire da questa crisi. Occorrono politiche di stimolo alla domanda. Certo, direte voi, in termini chinesiani, ma non solo. Anche politiche di intervento sull'offerta, cioè politiche di regolazione pubblica che indirissino l'offerta, diciamo, dei settori produttivi, verso prodotti diversi e nuovi. E tutto questo ha un centro fondamentale nelle città. Perché sono, ed è l'ultima, diciamo, frase che cito, significativo che siano proprio le Nazioni Unite a parlare delle città come rimedio alla crisi globale, a proporre un nuovo tipo di città del XXI secolo basato sul concetto della prosperità a varie dimensioni. E nella capolenza precedente io sostengo che è il ripensamento delle città che può, diciamo, prendere il posto della guerra. Io lo vedo così. Cioè, io vedo una, diciamo, un'evoluzione del pianeta nel quale il combinarsi di tutte queste tendenze renderà la lotta disperante per l'accapparamento delle risorse, a partire da quelle ambientate, per poi parlare di quelle idriche e così via, sempre più, diciamo, l'uomo di conflitti aceri se non si riesce a ripetire la tendenza. Ecco che l'alternativa, non voglio dire, no, guerra mondiale, catastrofe nucleare, eccetera, ma l'alternativa a un mondo di conflitti per accappararsi le risorse. E quello è ripensare le città, ripensare il fenomeno dell'urbanizzazione che è quello dominante, sarà quello dominante nei prossimi decenni e ripensarlo attraverso la formazione di nuovo modello di sviluppo su scala globale. Ecco perché le città possono essere il rimedio alla crisi globale. Ora io qui sviluppo il tema delle teorie di nuovo modello di sviluppo, ma su questo non sto troppo a insistere, se no veramente perdiamo il filo di tutto il nostro ragionamento. Il discorso appunto che ho fatto prima per di essere ecosostenibile, ecco e le direttrici, e qui c'è la parte finale, diciamo le direttrici dell'uomo, dello sviluppo, che sono poi le stesse direttrici di un'agente urbana che si voglia intendere comunicare. Ci sono alcune fondamentali scelte che vanno conclute e che noi possiamo cercare di tradurre, diciamo, dalla dimensione globale fino alla dimensione locale. Perché su questi temi ormai non c'è più distinzioso. Il mio tentativo è un po' questo, cioè quello di dimostrare appunto che quando parliamo di consumo di suolo energetico, parliamo di burio, ma parliamo anche delle favelas di rio, cioè il tema è qua, nel senso che occorre appunto una scelta sulla città compatta contro la città di espansione incontrollata, per azzerare, per azzerare massimo il consumo di suolo di suolo urbano, che compromettano superfici coltivate, producono a presenza di spostamento e maggiori consumi energetici. Qui ci sono una serie di testi che sono usciti anche recentemente, come questo di Edward Mese, che è un economista importante di Alba, che dice che il riondo delle città è questo, e cioè che il nuovo modello delle città sono le città compatte. Per i paesi in via di sviluppo, ovviamente, è ancora più difficile, ma è la sfida che bisogna affrontare. Ecco, qui ho cito un lavoro che aveva lavoro del mio gioco geologico, che abbiamo fatto, per trovare anche facilmente su internet, proprio sul consumo di suolo. Mi soffermo un attimo su questo, visto che insieme con la rigenerazione urbana è un tema prevalente, appunto, della nostra riflessione, della ragione di cui abbiamo dato. Noi abbiamo un modello che è quello, in questo caso sì, mentre sulle politiche economiche no, ma in questo caso sì che la Germania. L'attuale primo ministro tedesco, Angela Merkel, era ministro dell'ambiente, ma alla fine degli anni 90, in un governo di coalizione, quando la Germania si dà da un limite al consumo di suolo. Cioè, hanno calcolato l'andamento del fenomeno. E hanno detto che in quell'anno, che era l'88-1989, si consumavano circa 120 ettri al giorno di suolo, che sono prati. E hanno detto, cosa facciamo? Noi dobbiamo stabilire un limite, per cui, alla fine degli anni 90, al 2020, diciamo, dobbiamo arrivare a consumare 30 ettri al giorno, quindi dai 120 ai 30, che vuol dire, no, arrivare in quanto. E poi al 2050 ci poniamo l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo, ma attenzione. Per azzerare, non è che si intende a azzerare l'attività edilizia. Si intende a azzerare l'attività edilizia su suolo, con compromesso, su suolo naturale, su suolo vergine, per invece cercare di orientare l'attività edilizia sulla rigenerazione, sulla riqualificazione, anche a fine energetici, per quanto riguarda gli edifici, perché sappiamo tutti che uno dei temi fondamentali proprio della diminuzione dell'uso dell'energia è nelle abitazioni, perché il consumo energetico nelle abitazioni corrisponde al circa il 30-40% del consumo energetico progressivo. Se volete ancora più importante del consumo energetico relativo al settore di trasporto, ora è fondamentale. Ora non è che la Germania sia riuscita, diciamo, in modo proprio esatto a mantenere questa tabella dell'immagine, però si darà uno più. A livello europeo si arriverà presto con, se l'Europa legge naturalmente a quelle riflessioni di cui abbiamo detto all'inizio, si dovrebbe arrivare presto anche in questo caso, un obiettivo, un target. Ecco, in Italia è iniziato, ma sono un po' confuso sull'argomento, soprattutto dal lato, diciamo giusto, della tutela del territorio agricolo. Le associazioni dell'agricoltura hanno fatto iniziative, a livello nazionale sono stati presentati progetti di legge, i ministri dell'agricoltura, sia quello precedente che quello attuale, hanno presentato proposte in questo senso al Parlamento. Ne sta discutendo alla Commissione Rearance, alla Camera dei Deputati. Il limite di queste proposte è che l'uso di suolo agricolo non è un indicatore di per sé sufficiente, perché riguarda quelle porzioni di territorio che sono, diciamo così, denominate e classificate agricolo di piano miglioratore del comune. Solo che ci sono tante altre destinazioni d'uso che stanno tra il già costruito e l'agricoltura, che in quel modo è un vincolo toccato. Quindi non si può porre solo e semplicemente il tema del limite al consumo delle superfici agricole, ma fare come ha fatto la Germania, cioè porre un vincolo globale al consumo di suolo, ovviamente fatto giustamente, quindi in modo anche graduale, per cercare di facilitare il rientro dentro dei parametri sostenibili di questo genocchio. Contemporaneamente si sono fatte proposte, che secondo me sono più interessanti, di differenziazione dei costi da costruire. Perché uno dei problemi più grossi che noi abbiamo è che un fenomeno piuttosto forte, e quindi noi dati relativi alla questione sono facilmente le primi in quello studio, noi abbiamo avuto un incremento fortissimo dell'edificato, dei ultimi 20-25 anni, non corrispondente all'andamento demografico. che non è che c'è stata un'esplosione demografica tale da giustizio. E' chiaro che il driver è stata la vendita. Cioè, come dire, il settore dell'edilizia si è orientato purtroppo in una direzione che non era tanto quella di costruire per vendere immediatamente e costruire per riqualificare ciò che andava riqualificato. Ma il driver è stata la proprietà dei terreni, è stata la speculazione, è stato il fatto che comunque era molto facile, adesso io, prendere un terreno agricolo, presentarsi nel sindaco di Mutri dicendo questo terreno qua è vicino al centro abitato, adesso io chiedo che venga trasformato il terreno edificato, il sindaco di Mutri come tutti gli altri sindaci certamente è preso per lavoro dal punto di vista finanziario, la costruzione di quel terreno gli dà in ordine di urbanizzazione e in futura in Ugoici quello che è comunque delle entrate, in questo modo, diciamo, è diventata un po' moneta corrente, cioè l'urbanistica è diventata una fonte di guadagno per alcuni. ma tutto questo non in modo virtuoso, in modo vizioso. Quindi per recuperare l'idea di differenziare i posti di costruzione è molto ovale, cioè chi costruisce su suolo verde deve comunque pagare molto, molto di più di chi invece costruisce su suolo. Già, compromesso. questo, vabbè, non mi diffondo oltre, perché perché metti, insomma, andremo avanti molto lungo, ma insomma, credo di avervi fatto capire il tema numero uno, che è il tema fondamentale su cui un piccolo studio vedete ancora. Il tema numero due, un po' vero già accennato, di risparmio di risorse naturali e alimentari. Ad esempio, parlando con Andrea Segret, che come sapete è il produttore di FICO, e, insomma, cercando di... Benissimo. Cioè, allora forse ne ha parlato lui di questo, insomma, cercando di spiegare con quello che abbiamo in mente, perché, lo dico a Marco, lo dico anche a voi, una delle cose in cui io sto lavorando e che mi appassiona di più, è l'idea di costruire a Bologna un centro nazionale di studi sulle politiche urbane, presso l'università, con il contributo di altre università, centri di ricerca nazionale. E sarebbe importante questo. Allora, per cercare di coinvolgere Andrea con questo, se lui fa il ricerca, perché c'è un metabolismo urbano che deve completamente cambiare, intendendo per il metabolismo urbano tutto ciò che riguarda il flusso delle risorse, cibo, acqua, prodotti, energia, verso la città e naturalmente il loro utilizzo, oltre al fatto che la cultura urbana sta diventando anch'essa. Adesso, diciamo, un tema interessante, mi dicevano recentemente delle persone che, ad esempio lì a Prati di Caprana, perché conosce Bologna, sa che dietro a Bologna ci sono degli otti, però a Prati di Caprana gli otto l'anno non sono più solo gli anziani di una volta che non sanno come passare i loro tempi. Ci sono degli professionisti, ci sono dei giovani, ci sono delle persone che sono in attività lavorativa, che in un qualche modo, come dire, reinventano anche questo tipo di attività e che dà l'idea di come anche l'agricoltura urbana a questo fine possa essere un'attività, oltre naturalmente al tema di T, e cioè la città a zero emissori di carbono, anche questo lo lascio come suggestione, naturalmente la prossima settimana ci sarà Leonardo Senti. Perfetto, come vedete citato, come dire, tutti i miei autori dei vari dati sono qui citati perché è un altro di grandi temi, tra l'altro Leonardo Senti è promotore delle comunità solari, un'esperienza che nel comune di Casalecchio e in altri comuni si sta positivamente realizzando e che secondo me è una bellissima idea perché, come dire, applica, rinventa l'idea comunitaria per eccellenza, una cooperativa, dal punto di vista dei cittadini, quindi consente di realizzare queste cooperative come sono associazioni comunità solari dove ciascuno contribuisce anche in relazione al suo consumo energetico avendone come beneficio la possibilità di ottenere risorse per tutti gli interventi necessari alla sistemazione e all'esparmio energetico del proprio edificio, del proprio appartamento, che poi si traduce in un beneficio economico. È un meccanismo, diciamo, molto ben studiato che si sta sperimentando in intanto, proprio adesso qui, nel bolognese, se avrà successo, a partire dal comunità ovviamente di minore dimensione, sarà molto interessante vedere come funziona nei grandi centri, perché sono quelli che vanno agrediti, come ovvio, no? Se parliamo di emissioni di carbonio copriamo anche una città, Bologna, insomma, che è al centro di questo, però cominciare così. Per esempio, un'altra rivoluzione che si sta realizzando in giro per il mondo è quella della serie di carbonio, molto interessante. Ad esempio, la città di Seul, che, come sapete tutti, è la capitale della Corea del Sud, ha avviato una relazione abbastanza forte, intensa, con il comune di Bologna. Sì, da Romero è stato a Seul, ci sono degli scambi. Se voi andate a vedere nel sito, scoprite che Seul sta cercando di qualificarsi a livello mondiale come capitale della scena in piccola. E per cui loro, dal lato, che vuol dire la loro visione, o di varie cose, anche degli spazi di lavoro, come il new working, oltre che l'auto e quant'altro, però, dal lato di questa loro idea, hanno visto che in un certo posto del mondo, l'Emilia-Romagna, alla fine dell'Ottocento, si sono fatte le cooperative, per cui sono venuti loro a cercare qui. E sono molti interessati a noi, così come credo, dovrebbero essere interessati a loro, e poi c'è qualcosa come la Samsung, la pre-depart, insomma ci sono cose piuttosto rilevanti, proprio in ragione di questa scena economica. Ecco qui, sto per finire, c'è un tema che è di grandissima importanza e di grandissima parte. Allora, voi che avete presente, si ricompare e tutto quello che si ricompare e si porta dietro, le major dell'ICT, di Google, di Facebook, ecc. Ora, quindi, gli Stati Uniti, sta cominciando, diciamo, a diffondersi una teoria, che è qualcosa di più di una teoria, che dimostra come il nuovo ciclo di innovazione, perché, guardate bene, le città sono sempre state, da quando esistono, quindi, diciamo, dagli albori di normalità, luoghi per eccellenza di innovazione, se volete, è uguale a scoperta dell'acqua calda, come ha detto giustamente meno da proposito del ciclo di innovazione, perché è ovvio che, essendo che, diciamo, nelle città si concentra la popolazione, quindi anche le parti, come dire, più talentuose, più creative di questa popolazione, poi ci sono via via centri studi, centri di ricerca, ed è ovvio che sia da lì che, nella storia, sono partiti grandi cicli di innovazione, lo so io, che lo, anche per il video, e poi successivamente con la ricorso industriale. Adesso, questo attuale ciclo di innovazione sta tornando in decina. Infatti, questo Bruce Katz e Jennifer Lennie, che sono due studiosi della Rooking Institute, che è una grossa fondazione americana importante, che hanno scritto questo The Metropolitan Revolution, non ha ancora prodotto in italiano. Bruce Katz ha scritto su un blog di LinkedIn, in gennaio, un, diciamo così, un testo, che è stato molto lento, proprio perché veniva da lui, intitolato «goodbye Silicon Valley, hello Silicon Cities». E quindi avete capito il senso. Cioè, è finita quel tipo di innovazione là, adesso le città sono… la New York University ha sottoscritto un accordo con il sindaco Bloomberg, con la municipalità di New York, un paio anni fa, per fare per la città un laboratorio a cielo aperto per l'innovazione in banca. E l'hanno fatto in accordo con altre cinque grandi università mondiali, per cui anche una Cinemica e una Indiana, eccetera eccetera. Quindi, in sostanza, pensate ad esempio alle Smart Cities, è una formula ormai abusata. Tutti quanti parlano di Smart Cities. Ma perché? Ve lo dice uno che è stato, che sarà anche quest'altro, il Presidente dell'Università Scientifico di Smart Cities Exhibition, che si fa un valore in competenza con SAI, un altro elemento che si è in un centro socio urbano che deve essere utile. Perché tutti intendono questa Smart Cities praticamente come un sinonimo di innovazione. Cioè, tutto ciò che, ovviamente, che in nostra epoca di innovazione si fa con le nuove tecnologie e le informazioni della politica. Se è ora, no? E' benissimo. Allora, Smart Cities vuol dire esattamente questo. Naturalmente, e qui, diciamo, c'è l'ultimo tema, che non va bene su di vista, riduzione della proprietà, affermazione di principi di eguaglianza. Attenzione, perché anche qui, voglio dire, dagli Stati Uniti ci vengono le lezioni molto importanti, in questo caso il Nobel George Stiklitz, Ruhmann, vabbè, questi sono tutti, se vogliamo, i comunisti democratici che ne siano. Però ci dicono una cosa che, insomma, anche questo si sta facendo in abbastanza strada in ambienti diversi, e cioè che questo mondo così divaricato, no? dal punto di vista sociale, è un mondo che non va bene, che non funziona. Cioè la diseguaglianza sociale non è solo un male morale, no, diventa un fatto molto grave dal punto di vista dell'efficienza economica, eh? Rende le economie inefficienti. Ecco per cui è un'altra chiave per affermare la necessità e l'esigenza di un nuovo modello di sviluppo. Praticamente io vi ho già illustrato queste slide ultime che sono quelle, se volete, un po' più operative, perché i temi che mi stanno davvero a cuore, ve li ho già, diciamo, in qualche modo descritti. A me piace molto questa definizione di un economista urbano italiano che si chiama Antonio Calafaggi, in quel libro che vi ho citato, sul perché il paese, non uno dei paesi, ma il paese, le cui città sono più conosciute al mondo. Voi pensate a come parlano, no? In Australia, in Cina, in India, in America Latina, anche solo i nomi delle città italiane, no? Roma, Firenze, Firenze, basta anche solo citare queste tre nomi. Come vale? In questo paese qua non si agisce, non ci si rende conto che le città possono effettivamente essere in livello molto importante di un nuovo tipo di sviluppo e dice Calafatti perché c'è, siamo un po' tutti preti ad un blocco politico che ha coinvolto l'attualità scientifica della Repubblica, le decisioni politici di Valle di Valle, ed è causata una desistenza al cambiamento istituzionale che sarebbe necessario. Ma voi pensate anche solo alla fatica che si è dovuta fare per fare un'operazione francamente molto semplice, come quella della trasformazione delle province da enti del secondo grado, che non è neanche la famosa soppressione delle province, è qualcosa molto meno. E voi capite tutto il drammatico significato di questo termine, cioè l'esistenza al cambiamento che hanno impedito fino ad ora appunto di fare ciò che sarebbe assolutamente ovvio, e cioè di utilizzare le nostre città in quella chiave. Noi comunque non ne mordiamo, per cui nel quadro europeo ci sarà la gente urbana italiana, c'è un piano operativo nazionale per le 14 città metropolitane, questo è molto importante, e poi in fondo appunto cito il centro nazionale a disputi per le politiche urbane che sarà lanciato con un convegno molto importante alla fine di giugno. Un applauso. Siccome abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti di spazio per delle domande, qualcuno di voi vuole rompere il ghiaccio? Lei prima ha parlato del fatto che lo Stato, il Comune, debba sostenere, oltre che la domanda di mercato, anche l'offerta di mercato. Soprattutto può fare degli esempi un po' più pratici legandoci a temi un po' più, se si voglia, generali come può essere l'edilizia, la riqualificazione... Soprattutto, infatti, grazie per la domanda perché questo è uno dei punti fondamentali. Perché uno dei punti fondamentali? Perché se dovesse essere sempre solo lo Stato a risolvere tutti i problemi, quindi è chiaro che noi non andremo da tutta parte, in quanto il problema della crisi fiscale è sempre quello che vi vedete. Cioè, oltre un certo limite, è impossibile chiedere ai cittadini di contribuire al metto di tutte le inefficienze che ci sono. Quindi diamo pure per buono il fatto che con la spenda di giugno si riuscirà ad ottenere un'ordine di spazio. è tutta da vedere, perché poi ciascun pezzo di spesa pubblica è fortemente presidiato da interessi piuttosto potenti. Avete visto quello che è successo sugli F35, tanto per non parlare sempre solo degli usciti delle scuole, è che è facile dire tagliando una spesa sugli F35, poi quando arrivo a spiegarti che la libertà ha un costo, e secondo me lui dicendo questo dice una cosa a cui dovremmo riflettere, è troppo facile tagliare e poi quando ci sono i problemi con l'Ucraina e con la Russia arriva sempre la mamma America. E qui non parliamo di Italia, parliamo dell'Europa. È evidente che una grande possibilità anche di riduzione delle spese militari che vengono più efficienti sarebbe troppo un discorso di difesa pubblica europea. Questo ci potrebbe molto più. Però dal F35 fino banalmente al problema degli usciti, del ministero, del servizio, del lavoro, ma ogni pezzo di difesa pubblica è presente. E poi c'è il fatto che, come dire, più di tanto non si può mettere. Quindi non c'è dubbio che da quel lato lì lo Stato deve fare in più, soprattutto deve fare in più l'Europa e quindi smettendola con questi vincoli troppo eccessivi e lasciando la possibilità ai paesi soprattutto di difficoltà di fare investimenti. Ma, come hai detto giustamente tu, il tema, appunto lo accennavo prima, deve essere anche quello di come mettere in moto delle diverse dinamiche dal punto di vista dell'Osterno. Intendendo per offerta quella che, diciamo così, viene dall'organizzazione dei sistemi produttivi, adesso faccio l'economista da barca, però insomma ci serve un po' per capire, e intendendo invece per domanda quella che è sempre da diretti, no? E quindi politiche di sostegno alla domanda sono quelle che vanno nella direzione, diretti, diretti, sempre più, diciamo, con risorse disponibili, mentre politiche di sostegno dell'offerta sono quelle che intervengono sulla competitività dei sistemi economici. Allora, se noi così rapidamente scopriamo di nuovo queste direttrici di un nuovo modello di sviluppo urbano, scopriamo che ci sono almeno cinque grandi, cioè i più grandi, settori industriali che sono enormemente, possono essere enormemente interessati a questi temi. Vi dico, no, l'edilizia. L'edilizia è ovviamente il settore economico più in crisi che noi abbiamo oggi, parliamo del nostro Paese, in Italia. Se l'edilizia vuole riprendere, eh, insomma, parliamo di centinaia, di centinaia di lavoratori, di famiglie, di un nuovo produttivo, quindi il design italiano è anche molto legato al tema dell'architettura, no? Mezzo piano, per dire un solo nome. E questo, insomma, è un brand che noi possiamo far valere anche a livello mondiale. Ma questo edilizia dove va? Torna a riprendere un'appena, ci auguriamo, si esce, no, da questo punto più basso della crisi con i discorsi che facevo prima, e cioè con l'acquisto dei terreni di budrio che può andare da Pierini a chiedere che vengano, no, trasformati da agricolo edificati. Se è così, non riusciamo più. Quello è un modello finito, ma gli imprenditori edili più avvenuti lo sanno. Ecco allora che politica di rigenerazione urbana, come ad esempio quello che ho detto prima, limitare il consumo di suono è una cosa che non costa, è una legge. Se io metto un limite al consumo di suono, cosa faccio? Faccio una legge che non costa un euro. Se in più dico, tu, costruttore, se costruisci sul suono già compromesso, se mi rigeneri, no, un edificio, paghi di meno, anche questo non mi costo meno. Ecco un esempio tipico di politiche dell'offerta, cioè lo Stato senza investire, quindi senza dover supplire la domanda privata delle difficoltà con domanda pubblica, senza investire, può orientare con politiche di regolazione con leggi un diverso sviluppo nel settore dell'edilizia. Poi c'è il settore di trasporto, automotivi. Insomma, voi avete visto, adesso fanno un nuovo spot di questa nuova BMW, no, completamente elettrica. Voi sapete quanti veicoli elettrici sono stati venduti in Italia nel 2013? Fate il numero. Ah, io ho detto, quanti? 2.000. No, non così pochi. 38.000. Beh, ugualmente sono molto, molto pochi. Allora, se si vuole andare verso l'estensione della mobilità elettrica, anche qui le politiche pubbliche possono influire. Perché uno non compra la macchina elettrica? Perché costa molto. È vero, ma è anche vero che se le case automobilistiche possono cominciare a farlo, no, in larga scala, sicuramente tendenzialmente, un po' come è successo per i computer, no, il costo tenderanno a diminuire. Quindi, poi, quali sono gli altri momenti? Perché non hanno autonomia sufficiente. Allora l'autonomia dipende dal numero delle colonine. Allora, se io faccio le colonine, magari le faccio a fare all'alleno, le faccio a fare all'alleno, o comunque sia il collegamento con i produttori dell'energia o quant'altro, non è che aspetta tanto, no? Qualcosa sì, però non è tantissimo, che faccia una politica di sostegno all'offerto. E anche questo è un esempio. Io sono rimasto molto male, devo dire, Marco, di fronte al fatto che il gruppo di colonia è dovuto rinunciare al balcene. Ma questa è veramente una follia totale. Perché adesso funziona persino il carcere, cioè a Milano, c'è la professione di carcere, che sta funzionando per parecchi. Allora, voglio dire, sono esempi di tutto il balcene, che dovrebbe essere così, concettualmente, più facile. Ecco. Anche lì, sono politiche, diciamo, di sostegno. Diciamo così le smart cities. E questo, dicendo. Se si fanno, se si fa la banda larga, qui, qualcosa è stato fatto, abbiamo rinunciato a porti, eccetera, può prendere, diciamo, uno sviluppo di libertà. Poi c'è un quarto settore importantissimo, di cui io qui parlo poco, in una prossima edizione, magari, vi chierò questo argomento, l'Egypte. Cioè il fatto che le città europee non sono solo un modello diverso rispetto a quello degli altri paesi emergenti, perché c'è le città medie, ma rappresentano un enorme problema per quanto riguarda l'età dei propri amici. Abbiamo una quota di anziani sulla popolazione complessiva enorme. Come facciamo ad affrontare questo problema? Se non attraverso i health, i care, cioè tutta una serie di nuove tecnologie. Adesso a me capita di seguire mio padre che ha 86 anni. Insomma, è già abbastanza anziano, però ha molti problemi. No, immagino tanti anni in casa. Beh, io giro tra gli ospedali, di Bologna, eh. E beh, mi torna di portare dentro una borsa con dentro tutte quante le sue, diciamo così, suoi benefenti. Cioè, non c'è la cartella sanitaria elettronica. Non esiste, non esiste ancora. Quando la tecnologia per produrla esiste davvero da anni. Quindi è chiaro che se non c'è, e perché, come una volta per conto, all'interno dell'organizzazione sanitaria ci sono delle resistenze che impediscono la diffusione di questi strumenti. E poi me ne dimentico sempre, adesso non mi verrà in mente, comunque, insomma, che ho già fatto quattro esempi che mi sembrano più che, diciamo, no? Più che sufficienti per sostenere quello che dicevo anche in questo stato. Ah beh, sì, la quinta è l'energia, no? La quinta è l'energia, no? Cioè, era già un po' inclusa nelle cose che stavo dicendo, per questo non mi venivo in mente, però è chiaro che tutto il settore energetico a partire dal fotovoltaico, dall'elettrico, eccetera, la green economy può avere lo sviluppo di politiche in questo genere sull'energia, ti faccio prendo subito la mamma da Elvira che immagino che sarà su questo e poi c'è la... Sì. Però io non sono un esperto di niente. Io, no, no, no. Dove. Non prendi niente, perché non è un esperto di tutti questi anni. La domanda che in realtà si lega in parte a quella che è stata appena fatta e in parte mi ha fondamentato tutto sull'energia, perché al di là delle politiche a sostegno della domanda dell'offerta in questo momento di crisi e di scasse risorse, se noi pensiamo però a un modello di sviluppo che guardi anche nel medio e lungo periodo e faccio riferimento soprattutto al fallimento del fotovoltaico all'italiana, se il problema rispetto ad esempio al caso tedesco dove è stata creata addirittura una filiera industriale rispetto al fotovoltaico, se il problema non è più culturale non bisogna più investire su quello e sulla sensibilizzazione poi e della cittadinanza ma attraverso delle pratiche che penso per esempio a pratiche partecipative insomma in cui tu coinvolgi i vari soggetti che sono destinatari delle public policies in modo da rendere cosciente e sensibile che non serve soltanto l'incentivo se può fare il fotovoltaico ma alla fine è in un'ottica di un gruppo a tuo di medio e lungo periodo. Io avevo una domanda su uno degli altri settori che secondo me è molto legato alla crisi della domanda in terra e anche allo sviluppo dell'offerta cioè il commercio che è anche legato moltissimo ad esempio al profilo delle nuove città nelle smart cities come si vede il commercio di prossimità? Come si pensa tramite l'incentivare l'offerta del commercio per difenderlo dalle grandi catene internazionali che vediamo comunque adesso hanno ancora la media anche nel centro di Bologna stanno chiudendo i piccoli negozi e aprono sempre più grandi catene come si può profilare delle soluzioni nelle smart cities per sviluppare il commercio di prossimità che è qualità urbana che è benessere urbano? Mi aggiungo ancora io su un po' un periodo di coerenze che noi dobbiamo avere nel senso che spesso noi diciamo politicamente stop al consumo del suolo e poi abbiamo fatto delle pratiche amministrative per cui come tu dicevi pratica Bologna di un'organizzazione si è tenuta su un sistema anche finanziario municipale ecco però o noi diciamo stop a cosa sono vuol dire che non ci possono essere questioni nelle biurbanizzazioni e allora puntiamo su un investimento che favorisce la rigenerazione urbana o entriamo in una contraddizione per cui è facile per i depositori politici dire voi non siete coerenti con quello che professate e dall'altra parte c'è un tema non è più una cosa dell'agenda urbana giustamente in una prospettiva italiana europea c'è anche un tema che in questo momento è oggetto di discussione pubblica che è la proposta di Lorenzo Piano sulla ricucitura delle periferie parlare del ramidale delle periferie ecco si può legare una pressione urbana diversa da questa che è ormai più sostenibile con la ricucitura proprio anche sociale delle periferie delle città perché c'è il tema anche di una periferia del nostro paese che noi abbiamo scollegato dalla pressione urbana e sul quale anche qui ci vorrebbero delle politiche pubbliche di incentivo fiscale premiali perché altrimenti c'è la sensazione che le amministrazioni virtuose lavorano per la rigenerazione urbana lavorano per rammendare il proprio territorio ma poi alla fine si trovano senza fondi chi invece sviluppa il consumo del suolo cioè con gli anni di urbanizzazione di fatto riesce a crescere quindi questo obbligo di coerenza come lo traduciamo per chi vuole essere la amministrazione urbana bene ci sono altre domande? no? e poi da queste? va bene allora per il punto non dimenticarmi procederò dall'universo quindi in parte dell'universo tanto Renzo Piano mi ha fatto molto piacere che Renzo Piano abbia deciso di costituire questo laboratorio eh presso il suo ufficio al Senato destinando al laboratorio anche la sua identità potrei aggiungere che diciamo lo può fare visto che parliamo comunque di vari distanti per un mondo per gli anni nel mondo per le primissime e comunque sia gli altri non l'hanno fatto quindi o no almeno il tema del refugio urbano come tu giustamente accennavi non è solo un tema urbanistico è un tema sociale allora nella città che abbiamo conosciuto nel periodo neoimerista quando questo era una specie di credito no? di credito assoluto il fenomeno quindi parliamo fine del 80 anni 90 il fenomeno pre-crisi pre-crisi il fenomeno più diffuso nelle belle città europee cioè quelle che noi guardiamo con no? con grande regolazione che sono io come Marsiglia come Livone come Parcellora è quello che viene definito della gentrificazione cioè l'intervento del capitale finanziario per per regenerare parti brutte di città rase al suolo e ricostruite con centri elezionali con edifici di pregi di qualità ha prodotto naturalmente una trasformazione sociale della della gentrificazione cioè il fatto che i centri mediali hanno sostenuto i centri precedenti anche una vita era un'istrazione per umile popolare e hanno determinato diciamo un fenomeno di segregazione sociale per cui in certi regioni della città non sempre solo c'è questo dipende un po' secondo le conformazioni in certi regioni della città c'è solo un tipo di popolazione quella appunto più alta che quindi ha un certo tipo di consumi che ha un certo tipo di stile di vita e quant'altro e in alto ma nella città invece abbiamo popolazione invece di più di origini con problemi relegati anche all'identicità spesso anche con problemi legati alla sicurezza e così ora questo è il vero tema il fatto che l'autorità una personalità come Renzo Piano l'abbia fatta propria mi fa sperare che avremo un ottimo alleato proprio per la gente di fare questo ci sono parlato è chiaro che come dicevi tu tutto questo richiede politiche capaci di ricollocare in campo dico ricollocare perché nel corso del tempo abbiamo svuotato in campo le amministrazioni locali poteri effettivi ad esempio uno di questi poteri dovrebbe essere quello di essere maggiormente dotati di fondi per l'ausi per le case sociali perché non è detto che l'ausi sociale e quindi le case popolari tu le possa fare solo su suolo belgio tu le puoi fare bellissimo anche acquistando e rigenerando pezzi di città e quindi non è detto che la rigenerazione questo è un esempio debba essere necessariamente collegata alla gentrificazione perché tutti i giuri fai e lì ci vanno comunque abitare quelli che possono permettersi di andare a comprare a dei posti medioambi che può rigenerare anche radicalmente io parlo proprio di sostituzione urbana in una casa perché in certi diciamo così contesti urbani francamente da diciamo così conservare c'è un po' no? certe periferie che so io degli anni 50 non le vedo così riprendi ma possono essere a Bologna no perché a Bologna abbiamo fortunatamente un tessuto urbano però è soprattutto alle 70 pensate al grossolo dei quartieri belli di periferie quindi si può rigenerare anche evitando la gentrificazione purché ci sia una politica per la casa sociale l'altro tema che vorrei a Marco è quello del rapporto fra limitazione del consumo di suolo e usiamo fiscalità locale io sono più interessato culturalmente più interessato ad un'evoluzione di questa tasi quindi questo nuovo tributo che è stato istituito al posto del Dino sulla prima casa ha perso sempre di più un'imposta diciamo un'imposta sui consumatori di servizi comunali che sarebbe un modo per appunto affrancare il comunità e la fiscalità immobiliare attualmente attualmente non è così perché giuridicamente è così nel senso che sono i servizi invisibili dei comuni che vengono sottoposti a trassazioni quindi contribuiscono i proprietari anche i primi però lo fanno questo contributo lo commisurano sempre alla diciamo metratura dell'appartamento quindi comunque sia un qualcosa di ibrido che richiama molto da vicino la precedente trassazione immobiliare sulla prima casa mentre invece nello stile italiano che in questo senso potrebbe andare bene che è sempre diciamo di mutazione no? di cambiamento di legislazione insomma se si potesse far vero su questo per evolvere una tassazione verso imposta comunale sui servizi come quella che il PD aveva proposto in alternativa all'INU quando ci fu la disoluzione in sede di federalismo fiscale no? un'imposta comunale sui servizi che pagano tutti che naturalmente non è aggiuntiva ma è sostitutiva di altre imposte e che serve esattamente a quello che dicevi tu perché se no il gioco non vale la candela e comunque come svuotare il marco chiaro a piedini puoi dire qualunque cosa ma se lui non riesce a mantenere i suoi servizi poi alla fine finirà mantenendo che li ho comprato io lui me lo capa e mi dà la destinazione d'uso che io chiedo perché è un meccanismo che va oltre appunto le dichiarazioni di principi perché chiama in causa degli interessi che sono dal punto di vista dell'amministrazione è proprio pienamente legiti commercio a me dispiace come facciamo sempre più spesso usare termini anglosassoni o comunque di altre lingue ma purtroppo è così quando gli altri ci sorpassano e sono più bravi di noi insomma la cosa migliore da fare è andare a capire cosa hanno fatto ta set manager questa è la formula magica per quanto riguarda il tema che dici cioè il commercio diffuso questa formula è già chiara la sua enunciazione è il management cioè vuole dire che ci vuole qualcuno che si occupi della gestione di che cosa? la gestione di tutti quegli aspetti che sono correlati al commercio diffuso in sede urbana ma che ciascun esercente da solo non potrà mai affrontare perché la competitività di un sistema appunto di commercio diffuso che hai ragione tu che è un fattore di qualità urbana è legata ad aspetti che difficilmente hanno a che fare solo con l'interno del negozio hanno sempre più a che fare con quello che sta fuori l'arrivo urbano i servizi che possono essere prestati alla popolazione circostanti che devono essere servizi ovviamente collettivi come il fatto di consegnare a casa dei medici il diciamo la qualità dell'insegnamento l'accessibilità non attraverso il mezzo privato necessariamente ma anzi attraverso anche mezzi pubblici o comunque condivisi tutto questo ha a che fare con questa tecnica in altri paesi europei è stata diciamo acquata con dei medici proprio tanto center medici dei medici che hanno avuto questa responsabilità con successi rilevanti perché se voi andate in città tedeschi o olandesi o anche danesi o comunque di altri paesi europei voi vi accorgete che i supermercati ci sono da perdere ma se state capaci attraverso politiche attenti di rilanciare il commercio diffuso tra l'altro in Italia a differenza di quello che può capitare per città di quei paesi c'è il fattore turistico che è fondamentale il turismo è un alleato naturale e formidabile del commercio diffuso in sedia urbana perché andare al intermercato di Villanova c'è poco di turistico però beh allora il turista preferibilmente si orienta verso Piazza Maggior anche verso i centri storici come Bud e le altre città beh questo può essere un fattore importante se viene legato lì con le smart cities possono essere rivoluzioni poiché con le smart cities tu puoi diciamo origamizzare meglio tutti gli ambiti di vita urbana per attivare la mobilità con il telefono il telefonino con il cellulare puoi prenotarti il tuo posto auto anche sulle strisce blu se c'è il sensore ti dicono quando è libero e dove in questo modo con l'auto tu fai anche meno strada quindi consumi meno carburanti quindi di meno ecco tutte queste tecniche possono essere tranquillamente ripensate anche alla luce appunto del sostegno al commercio diffuso la prima domanda risposta mia probabilmente sarà l'ultima quella relativa agli incentivi per il forto montanico mentre rispondevo a lui effettivamente ci pensavo volevo appesantire troppo la risposta precedente perché in effetti è vero come detto noi abbiamo avuto esiti grazie a questi incentivi peraltro molto forti negativi o non sufficientemente positivi prega attenzione alla produzione di energia solare da fotovoltaio senti quant'è che viene la settimana prossima poi ve lo dirà meglio lui in realtà molto incrementato però sono stati incentivi hai messo il video sulla piaga che non hanno saputo generare una filiera nazionale di produttori di queste tecnologie tant'è che noi andiamo a prendere il cino all'altro allora lì agisce sicuramente quello che vedete il fatto che deve essere una politica fondata molto anche sull'educazione non semplicemente sul fattore economico sulla scoperta che ci sono altri valori in campo no? che è giusto diciamo così agire deve essere fondata sulla partecipazione l'esempio che facevo prima delle comunità solari ma proprio in quella direzione e poi c'è un fatto fondamentale che non riguarda solo gli incentivi ma che è quello che rende purtroppo l'Italia ancora un paese da cui da cui si diffida per gli investimenti la certezza dei diritti cioè su questa storia degli incentivi nel giro di qualche mese si sono cambiate quattro cinque volte le regole del gioco ma guarda bene che questo non riguarda solo gli incentivi del fondo mondiale pensiamo alle opere pubbliche è inutile chiedere il project financing cioè il contributo dei privati alla realizzazione di opere pubbliche se le regole del project financing variano ad ogni legge finanziaria io lo so perché non sono stato parlamentare ogni legge finanziaria che adesso si chiama legge di stabilità c'era un blocco di articoli normativi sul project financing sulla partecipazione pubblica e privata che cambiavano costantemente delle carte intanto allora qui ci vuole una moratoria cioè mentre per altri aspetti che abbiamo detto prima ci vogliono nuove leggi e nuove norme qui ci vuole una moratoria a dare le leggi e dare le norme e cioè che ci sia come dire una stabilità di indirizzo che sono una guida politica forte ovviamente un paese può dare che consenta agli investitori a partire da quelli del fondo mondiale di avere le certezze necessarie per impiegare i propri risulti in questo settore grazie grazie due comunicazioni di servizio la prima il 12 aprile no giustamente il 12 aprile ci sarà questo importante appuntamento a bologna che si chiama electric trombin che è un'altra parola inglese perché ancora una volta ci hanno insegnato Chi fosse interessato a partecipare sul laboratorio urbano o sul sito del PD di Bologna trovate il modulo per il sito del PD di Bologna. Non va confusa come il tentativo di sovrapporsi ai consigli comunali, però è deliberativo, quindi ci saranno tavoli da 10 persone, tonti perché devono essere paritari, ciascun tavolo avrà un facilitatore e ci sarà un collegamento via computer con la cabina di regia centrale. La giornata 9.30-18 è articolata in tre sessioni, si discute di indirizzi sullo statuto della città metropolitana, si discute dei poteri che dovrà avere questa città metropolitana, e si discute delle modalità di elezione degli organi, la famosa questione se è letta direttamente o no, se è letta direttamente, se il comune di Bologna è giusto che venga scomposto in più comuni. Si discute a termine di ciascuna discussione, la cabina di regia sulla base del andamento della discussione dei gruppi, lancia dei quesiti sui quali con un telecomando ciascuno vota, e alla fine i risultati di questa votazione entreranno a far parte del documento che viene consegnato all'istituzione. Loro possono anche, diciamo, mettere le loro cestine, però devono motivare perché non seguono l'indicazione che vengono state a scendere. L'idea è un po' quella della coraggio, quella di replicare, di avere un campione che sia rappresentativo della popolazione, che in qualche modo, votando, si esprima e quindi dia un'indicazione agli amministratori di come deciderebbero i cittadini riuniti in assemblee. 900.000 cittadini da città metropolitana. Questa era la prima comunicazione di servizio importante da fare, adesso ci vediamo. 5 minuti di pausa tra un'ezione e l'altra, e la seconda comunicazione di servizio era che, per evitare le difficoltà di concentrazione, giustamente, della settimana di lunedì scorso, abbiamo previsto un buffet alla fine della seconda lezione, per cui facciamo adesso 5 minuti di pausa, poi cominciamo con il secondo intervento, e alla fine ci fermiamo tutti, o chi vuole, si può fermare per mangiare qualcosa insieme. Grazie. 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 Grazie.